Con tra le righe consigli di lettura, anche questa settimana siamo nella libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo, a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Questa settimana voglio partire con un libro di Fra Giovanni Patricio intitolato Padre Pio alla luce dell'Eucarestia, un testo un po' datato, è stato stampato nel 2005, infatti edizioni Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo, in occasione dell'anno dedicato all'Eucarestia. E leggiamo proprio un passaggio in cui, dalla vita di Padre Pio fra Giovanni, estrapola alcune testimonianze dei confratelli del Santo Cappuccino. Secondo la testimonianza dei confratelli presenti alla sua morte, il corpo di Padre Pio era diventato flessibile e fresco come il corpo di un bambino. San Paolo Apostolo scrive che noi seminiamo un corpo mortale e un giorno riceveremo un corpo immortale. Questa vita nuova di risurrezione, dunque, in Padre Pio era miracolosamente iniziata già al momento della sua morte. Per questo Enrico Medi, grande scienziato e figlio spirituale di Padre Pio, ci darà questo commovente rilievo davanti alle spoglie mortali del Santo Frate Cappuccino. Quel corpo di Padre Pio è santo, venerabile, e risusciterà un giorno perché Cristo e Eucaristia è entrato dentro di lui. Per cui ogni cellula, ogni molecola di quel corpo, dal corpo di Cristo è stata santificata. Per quel vibrare di quel sangue, dal sangue di Cristo, è stato sublimato, quasi diventato divinità, come dice Paolo l'Apostolo. Siete quasi dei perché in Dio trasfusi, direi, confusi, assorbiti, bruciati e consumati. Parole che, a ben pensarci, scrive l'autore, fanno venire i brividi. Poi ci sono anche alcuni passaggi tratti da Ecclesia d'Eucaristia, dalle lettere di Sant'Ignazio di Antiochia e tanti altri episodi riguardanti la vita e la spiritualità del Santo Frate di Pietrelcina. Dunque, ripeto il titolo del libro, Padre Pio alla luce dell'Eucaristia, di Fra Giovanni Patrizio, edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Don Antonio Ruccia, firma per la San Paolo. Don Antonio Ruccia è parroco a Bari, nonché docente di teologia pastorale, diverse le sue pubblicazioni. pubblica questo libro intitolato Scegliere di rinnovarsi, cammino di conversione per una chiesa di schiodanti. Una quaresima qualunque, se provassimo a lasciarci sconvolgere e coinvolgere per rinnovarci attraverso una lettura trasversale dei Vangeli Domenicali Quaresimali, non basta percorrere la strada del Calvario come partecipanti piangenti, è necessario diventare schiodanti. Questo significa comunità che incontra le famiglie, risveglia le celebrazioni, vive la carità, scova gli assenti e dice loro che il blackout è finito. Cristo ti invita e ti vuole con sé da schiodante. Come scrive a pagina 27 Don Antonio, il Vangelo è una persona da incontrare e non da circoscrivere in un perimetro. E ancora dice, è questo il tempo opportuno per gli schiodanti, non è il tempo delle mortificazioni, facendo riferimento al momento forte appunto dell'anno liturgico che è la quaresima, ma è il tempo delle vivificazioni. Si tratta di scoprire forme nuove e originali per vivere nella dinamica del dono, che innalza la qualità della propria vita mettendola in sintonia con quella del Cristo vivente, esperimentando così la bellezza della vita che non muore. Gli schiodanti sono chiamati a seguire il tempo della fioritura, il seme che produce fiori prima e frutti dopo. È necessario che emerga e cresca. In altri termini, venire fuori, uscire dal guscio e dare vita. Solo marcendosi, i risultati seguiranno questa direzione. Ci sono davvero degli spunti di riflessione molto interessanti, che siate semplici devoti, fedeli, che siate catechisti, che siate operatori pastorali. Edito dalle Paoline, Don Antonio Ruccia firma, scegliere di rinnovarsi. Cammino di conversione per una chiesa di schiodanti. Il prossimo libro che voglio presentarvi è edito dalla San Paolo e ha una copertina abbastanza forte, con pugile, con gli occhi chiusi, con i guantoni vicini, quasi in atteggiamento ecco riflessivo. Il libro è firmato da Carlo Pizzoccaro, Molti volti una vittoria, lettere a chi ha visto la vita in faccia. Carlo Pizzoccaro, classe 1987, quindi molto giovane, studia presso il seminario dell'Arcidiocesi di Torino, dall'8 settembre del 2013, è vicario pastorale presso la parrocchia Santuario di Santa Rita da Cascia in Torino, e poi dal 2018 è parroco a Cumiana, sempre in provincia di Torino. Si tratta, in questo libro, sono raccolte 40 lettere aperte a 40 personaggi che popolano i Vangeli dei giorni precedenti e seguenti la passione di Gesù. Da Lazzaro a Caifa, da Giuda a Giovanni e Pietro, tutti questi coprotagonisti che popolano lo scenario della morte e resurrezione di Gesù trovano un volto nuovo e originale nelle brevi, essenziali e castiche, emissive che l'autore, una delle penne più vivaci del panorama letterario e di quella che ormai possiamo chiamare la novel vague della spiritualità italiana, invia loro. Così Giovanni, che giunge per primo al sepolcro, diviene il pie veloce. Filippo è il primo influencer della storia cristiana. Caifa e Anna, gli esempi del bullismo e della sordità di fronte alla voce del vero. E poi ci sono Maria di Magdala, la donna sprecona che consuma l'olio per i piedi di Gesù, di contro al taccagno di Giuda, chiuso in se stesso. Ci sono i pessimisti e gli speranzosi, come il cattivo e il buon ladrone. Ognuno di questi quadri, poetici e drammatici, insieme, ci offrono un'immagine di noi stessi, di come siamo e di come potremmo essere, fuori da una lettura polverosa del cristianesimo. Un libro da non mancare, dedicato a credenti e anche no. Carlo Pizzoccaro, Don Carlo Pizzoccaro, Molti volti una vittoria, lettere a chi ha visto la vita in faccia, edito dalla San Paolo. E allora concludiamo con un libro intitolato Elogio della generosità, edito dalla LDC, firmato da Luca Peyron e Ivan Andreis. Una bella copertina con due mani colorate e dei cuori, anche questi colorati, quindi davvero dei colori che invitano ad essere generosi. Luca Peyron è sacerdote dell'Arcitiocesi di Torino. Ivan Andreis è padre di tre figli sposato ed esperto di progettazione di laboratori educativi e realizza esperienze di animazione alla carità attraverso percorsi rivolti ad adulti, ragazzi e giovani. Come leggiamo in quarta di copertina, questo libro parla di tantissime cose. Una storia d'amore, un gesto disinteressato, un lavoro fatto con cura, un modo di educare, un progetto per un mondo migliore. Tutti questi argomenti possono essere riassunti in una sola parola, generosità. Gli autori di questo libro, appunto, un sacerdote e un laico, ci raccontano come attraverso, come la generosità possa davvero essere uno strumento straordinario, capace di guidare il pensiero in tanti inesplorati mondi, dalla teologia all'economia, ripensando poi teorie, ripercorrendo sentieri, cercandone di nuovi, facendosi proprio guidare da questo concetto, che è il concetto di generosità. La storia della generosità comincia da lontano, dall'amore disinteressato di Dio per il suo popolo ribelle, e diventa luce nel nostro vivere contemporaneo, in famiglia, nel lavoro, nella società. Andiamo, pagina 38. L'offerta della vedova. Quando ero bambino, mia madre mi raccontò del gesto generoso di una povera vedova. Ricordo che quella storia mi rimase impressa per molto tempo e forse mi segnò per sempre. Solo più tardi venne a sapere che si trattava di un brano del Vangelo conosciuto come l'offerta della vedova. Nell'episodio raccontato da San Marco, Gesù chiama sei discepoli e fa notare loro il diverso valore delle offerte che fedeli e pellegrini stavano portando al Tempio. Da un lato ci sono i ricchi, che senza privarsi del necessario possono offrire grandi somme di denaro. Dall'altro c'è una donna, povera e vedova, che offre tutto il poco che ha. La riflessione di Gesù è categorica. L'offerta della vedova è autentica, le altre no. Infatti lei è l'unica che si priva oltremisura di qualcosa, l'unica che non tiene da conto, l'unica che non calcola. E chi l'avrebbe mai detto che una persona così povera ed emarginata avrebbe offerto tanto generosamente, qui ritorna la parola appunto generosità, fino al punto da dare tutto ciò di cui disponeva. Se avessimo voluto scommettere sulla sua offerta avremmo perso tutti, perché la scelta di oltrepassare il limite e donare così tanto è una scelta insensata. Tuttavia, proprio in quella scelta si rivela la generosità del gesto. Sappiamo dire poco su cosa la generosità sia, ma nonostante questo sappiamo tutti cos'è, o meglio, sappiamo riconoscerla quando si manifesta e sappiamo bene quando scegliamo di non sceglierla. Infatti, se avvertiamo la pesantezza dello stare dentro relazioni fondate esclusivamente su una logica di scambio, è perché una forza che preme dall'interno del nostro cuore rigette il calcolo, la misura, l'utilità, l'attesa di una contropartita. E poi è importante, come appunto scrivono i due autori, quando manca quella generosa attenzione verso l'altro, verso la vita, verso l'essere nella vita con gli altri, manca l'essenza della vita stessa. educare alla generosità è il punto di partenza per accompagnare a vivere la gioia, gustare lo stupore, meravigliarsi della bellezza e intenerirsi nella compassione. Un libro che davvero vi offrirà tanti spunti di riflessione, magari se siete catechisti, ma anche se siete insegnanti, per parlare della generosità anche a scuola, così per fare in modo che i ragazzi comincino a inserirlo nel loro vocabolario quotidiano. Edito dalla LDC, l'elogio della generosità firmato da Luca Peron e Ivan Andreis. E con questo libro vi ringraziamo per essere stati con noi l'appuntamento con Tra le righe alla prossima settimana. Grazie a tutti.